Informiamo la comunità sorda e tutti coloro che gravitano intorno al mondo della scuola che, in data 26 ottobre 2022, è stato presentato al Senato il disegno di legge affinché gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione siano internalizzati presso il Ministero dell'Istruzione. La FAND, Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità di cui l'ENS è membro, e la FIRST, Federazione Italiana a Rete Sostegno e Tutela, sono state le promotrici del disegno di legge. La prima firmataria è l'On. Ella Bucalo, che era stato già presentato nel corso della scorsa legislatura alla Camera dei Deputati. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è una figura professionale, riconosciuta dall'articolo 13 della Legge 104-1992, che è di importante supporto al lavoro del docente di risostegno a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio e dell'inclusione degli studenti sordi e con altre disabilità. L'erogazione del servizio è oggi in capo agli enti locali. A causa di questa situazione, purtroppo ogni anno, gli alunni e le alunne con disabilità sono lasciate all'inizio della scuola senza supporto, e questa mancanza continua per mesi, oppure per poche ore, insufficienti rispetto alle effettive necessità, e i lavoratori sono costretti a vivere una grave condizione di precarietà lavorativa e retributiva. Il disegno di legge ha l'obiettivo di stabilizzare gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, avere un servizio uniforme su tutto il territorio nazionale. Secondo i dati Istat, si va dai 2,9 alunni per ciascun assistente nelle Marche ai 16 della Campania. Per questo si vuole dare certezza alle famiglie e ai loro figli di vedere la garanzia del diritto allo studio, con la previsione di un assistente alla comunicazione dal primo giorno di scuola, con orario completo, per garantire parità di accesso al diritto allo studio per tutti. Lance ribadisce il suo sostegno a questo disegno di legge e si dichiara pronto a dare il proprio contributo per arrivare il più velocemente possibile all'approvazione di un testo che sia il migliore possibile e che raccolga un consenso ampio e trasversale in Parlamento.